Un saluto a tutti i campanari di Youtube e non poteva mancare la chiesa perugina per eccellenza la cattedrale di San Lorenzo abbiamo un concerto di quattro campane un accordo molto particolare che adesso ascolteremo per la Santa Messa festiva delle 11.30 e poi va per l'Angelus della seconda domenica d'Apupasco anche della Divina Misericordia o in Alvis dei Pani Ressi ovviamente molti si chiederanno con queste riprese perugine vogliamo magari fare le scarpe a uno dei campanari più importanti qui nell'Umbria ma abbiamo scoperto se la capiamo è stata buona e quindi aspettiamo le campane questa bellissima città grazie a tutti i campanari grazie a tutti i campanari Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.